Sì, vittoria meritata, vittoria bellissima e direi vittoria fondamentale per la classifica e per il nostro percorso. Sì, l'abbiamo preparata benissimo già da inizio settimana, sapevamo come muoverci in campo, sapevamo come andargli a prendere, sapevamo il momento giusto di attaccarli o quando aspettarli e niente, è venuta a tenere un'ottima partita del Frosinone e meritati questi tre punti. Sì, sarebbe stata la ciliegina sulla torta, però sono contentissimo della prova della squadra, della mia prestazione personale e niente, guardiamo avanti e alla prossima sarà importante. Sarà uno scontro diretto, bisogna entrare in campo come siamo entrati oggi, con la stessa testa, con la stessa grinta e sicuramente ci porteremo a casa, grosse soddisfazioni. Sicuramente quando stai in basso e vedi le squadre che tu ci competi vincere, tiri qualcosa fuori in più, quindi una spinta che viene da sola.